Dottore, ci siamo, siamo pronti. Io la ringrazio e vado avanti. A presto. Stefano De Martino conduce Affari Tuoi, da lunedì 20.35, Rai 1. Dice, si pacco, un involto legato costituito da una scatola. E qui c'è la scatola. Dottore, sì, 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 sto studiando, sto studiando. Sì, sì, non si preoccupi. Tutto, tutto, tutto. Dice, si pacco, un involto legato, eccetera, eccetera. Ma lei esca, si spaghi, esca da quell'oculo. Dico, vada, vada, vada tranquillo. Il concorrente può accettare o rifiutare l'offerta. Giustamente si ringrazia il dottore e si va avanti. Andiamo avanti. Stefano De Martino conduce Affari Tuoi. Questa sera, 20.35, Rai 1.